Continuano nella diocesi di Termoli-Larino gli appuntamenti del Parliamonecon, una serie di incontri con gli autori di testi significativi che interpretano la contemporaneità. Un confronto a più voci e secondo prospettive disciplinari diverse. Ci si interroga sul senso dell'oggi, tra l'altro molto difficile, cercando di comprenderne direzioni risvolti, prospettive e fondamenti. La politica della cura, prendere a cuore la vita, è l'ultimo libro di Luigina Mortari, docente di pedagogia all'Università di Verona, a dialogare con lei esponenti della vita politica e amministrativa del nostro territorio. Il tempo che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni ci ha mostrato quello che è più importante e quello che è meno importante. È stato un tempo di riconciliazione con l'essenziale. Una cosa che penso abbiamo appreso tutti è l'importanza della cura. La cura avviene in molti modi. C'è la cura educativa, quella che si attua nelle scuole, la cura sanitaria, la cura terapeutica, quella che si attua negli ospedali. E la pandemia ha messo proprio alla prova queste due istituzioni fondamentali della società. Perché la cura è fondamentale? Perché senza la cura, cioè senza il prendersi cuore alla vita, non c'è possibilità appunto di esistenza. L'esistenza può essere un accadere di momento in momento, così come il luogo dove noi veniamo ad essere ci mette nelle condizioni di agire, oppure può essere un progetto costantemente pensato, vissuto, riflettuto, sia per sé, sia per gli altri, sia per le istituzioni, sia per la natura. Perché la cura si attua in diversi modi, appunto in tutte queste quattro direzioni.